Questo lavoro è stato svolto grazie alla collaborazione della Biblioteca Reale del Belgio, della Galleria di Stampi Le Fouvenot e dell'Istituto per l'Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli. Si è fatto una collaborazione internazionale per questo lavoro di ricerca e di restauro. Sono molto felice di questo premio, è un premio in realtà di gruppo, un lavoro di squadra, non si fa mai niente da solo e oggi sono molto emozionata di averlo ricevuto in nome di tutti. Grazie mille! Grazie mille!